No, intanto ci tenevo, visto che quando prima mi hai visto saltare, cioè io non posso escludere che ci siano stati, diciamo così, tornando al discorso delle elezioni di Trump che sarebbero state favorite dalla Russia, ma ho seguito questa faccenda per due anni ormai, cioè perché hanno cercato di accusare, tirare in ballo la Russia come la regia occulta dietro le elezioni di Trump, in ogni modo possibile e immaginabile, e tutte le indagini federali che volte ha a dimostrare questa cosa sono tutte naufragate nel nulla, e per quello che ti dico, io non escludo che magari alla Russia non sia spiaciuto che al posto della Clinton, se fosse stata eletta alla Clinton, signori, adesso saremmo detto il bunker nucleare, intanto potete dire, perché quella avrebbe scatenato la terza guerra mondiale così. Invece Trump, che sembra il pazzo e il folle, effettivamente certi suoi comportamenti non riescono a decifrarli nemmeno io, però guardando i risultati pratici di certe sue prese di posizione apparentemente contraddittorie o incomprensibili, però guardando i risultati di fatto per il momento delle cose che avrebbero dovuto accadere molto gravi, in qualche modo non sono ancora accadute. Quindi per me Trump rimane ancora un grosso enigma, però sulla questione appunto della manipolazione russa, cioè qua è la storia del bue che è dato il cornuto all'asino, cioè voglio dire l'amministrazione americana, e non sto, non è un'idea, perché è stata, è un'ammissione fatta da, come si chiama, l'artefice della rivoluzione colorata, comunque del colpo di Stato in Ucraina, Victoria Nuland, ha detto, ha affermato che per rovesciare il legittimo governo ucraino il governo americano ha speso 5 miliardi di dollari, cioè quindi veramente è il bue che è dato il cornuto all'asino, questi accusano la Russia di aver interferito con le elezioni americane quando loro, sì, da almeno 70 anni hanno interferito con le elezioni dei paesi di mezzo mondo, compresa l'Italia, abbassanti, quindi veramente, per quello si è stato dato così, anche se comunque non posso escludere che ci sia, cioè non lo so, bisognerebbe essere ben più addentro a certe stanze dei bottoni dove vengono prese certe decisioni e vengono messe, tirate certe leve e messe in moto certe dinamiche, però la luce dei fatti concreti assolutamente assolvati è l'esatto contrario, quindi, per quello mi ho detto, non volevo contraddire quello che dicevi, per quello che riguarda la Cina, il progetto della smart grid, adesso io suppongo, spero, che, anche se non l'hanno espressamente dichiarato, le tecnologie a cui faranno riferimento per raggiungere questo obiettivo, mi auspico che finalmente non sia solo come marchio di un'automobile elettrica, ma finalmente il genio di Tesla ricupera il suo posto e che le sue idee e le sue tecnologie vengono finalmente implementate a livello globale, non dimentichiamo che, cioè, è inutile che continuiamo a cercare, al di là delle fonti energetiche per produrre tutta questa energia, e tu facessi riferimento appunto al nucleare che è una cosa veramente... noi non abbiamo nemmeno idea, non abbiamo nemmeno idea a... come dicevi tu, a livello di molte dimensioni dei danni che la tecnologia nucleare ha fatto e continua a fare al mondo in cui viviamo. Ultimo esempio, Fukushima, di cui non si parla più, ma che se qualcuno, se qualcuno ancora osa tirare in ballo a Chernobyl, mi viene a scontarli sul mondo, perché i danni, i danni che l'incidente di Fukushima ha causato e continua a causare, perché anche se pensa, il mondo pensa che finalmente lì non succeda più niente, no? Che l'emergenza sia rientrata. Non è assolutamente così. Soprattutto le acque, le acque acque radioattive, se voi prendete un'immagine su Google Map, andate a vedere intorno alla centrale di Fukushima, cioè praticamente ci sono intere aree coperte da vasche di acqua radioattiva raccolte in questi anni, che sono soltanto una percentuale di quella che sono usciti a raccogliere. Provate a indovinare dove è finito il resto. Dove si trova Fukushima? Si affaccia sul Pacifico? Andate a vedere le testimonianze, i danni, le mutazioni genetiche nella popolazione itica, ma non solo intorno alla costa giapponese, perché le correnti, tutta questa schifezza, l'hanno portata, basta a caso, il karma, no? Cioè gli americani hanno sganciato la bomba sui giapponesi e 70 anni dopo, o più o meno, la loro radioattività li sta tornando attraverso l'acqua, attraverso il Pacifico, perché se andate a vedere rapporti certo non pubblicati né sul Corriere della Tessera né dagli New York Times, soprattutto nelle coste del Canada, cioè lì c'è, ci sono delle popolazioni di pesci sottoposte a mutazioni pazzesche, la pesca è carata drasticamente, quindi vuol dire un veleno che silenziosamente sta tornando da chi l'ha originato, ma al di là di questo discorso, appunto, la Cina io auspico che si avvalga delle tecnologie di Tesla che prevedono soprattutto un elemento fondamentale, secondo me, se vogliamo veramente parlare di una griglia pulita dal punto di vista energetico, ma anche che non devasta l'ambiente. Oggi noi siamo costretti, e voi che vivete qui, lo sapete meglio di più che altro, perché qui l'elena, cioè, ormai, tu puoi produrre tutta l'energia che vuoi, però per portarla dove la devi portare devi stendere questi elettrodotti, questi risultatori, questi tralicci, con questi cavi ad alta tensione che producono tra l'altro delle emissioni elettromagnetiche che non fanno bene né all'ambiente né agli umani che ci vivono intorno a questa letteratura scientifica che potete trovare anche l'altro. Invece la tecnologia di Tesla era basata su cosa? Sulla trasmissione di energia senza fili. Per quello che il genio di Nikola Tesla è stato cancellato dalla storia, perché non solo, e lo stava dimostrando nel 1903 con la costruzione della storia di Warden più a Long Island, lui voleva dimostrare praticamente non solo la possibilità di produrre energia pulita utilizzando il magnetismo terrestre, perché pensate, la dinamo della bicicletta, che cos'è? se non una coppia in piccolo del nostro pianeta che gira intorno al campo magnetico. Cioè, noi viviamo immersi in un mare di energia. È chiaro che i sistemi, i grandi potentati economici non vogliono che queste cose vengano spiegate agli studenti che vanno a scuola o all'università. È chiaro, perché a un certo punto qualcuno potrebbe farsi delle domande scomode. E quindi continuiamo a bruciare petrolio, a usare uranio per le centrali nucleari, per produrre energia. Noi siamo immersi in un campo di energia. Dobbiamo soltanto trovare il modo di attaccare la spina e ciucciare tutta quella che vogliamo, senza creare tale ambiente e possiamo alimentare tutto quello che vogliamo. e soprattutto, oltre alla produzione di energia pulita, la trasmissione di questa energia senza fili, come le onde radio. Cioè, la torre di Watercliff avrebbe dovuto rifornire di energia elettrica tutta la zona in cui era tutta la Baglia e anche oltre, e la gente avrebbe dovuto soltanto avere un antenino da piazzare in casa, sintonizzata con la stazione, e via. soltanto che chi li stava, JP Morgan, conosciate questo nome, no? Edison, è JP Morgan che fidanziava la cosa. E quando JP Morgan ha fatto una domanda chiave, sì, scusi signor Tesla, ma per far pagare questa gente come si fa? Ah, non si può. Cioè, non puoi mettere un contatore vicino all'attelina, eh? Quindi questa è stata la morte, la morte se non fisica, la morte scena, la morte sociale, diciamo così, di quel grande genio che fu Nikola Tesla. E, beh, adesso possiamo lasciare spazio a qualche domanda, perché insomma, io non so.